Ma evidentemente nel mondo anche gli altri hanno certi problemi un po' dolci, nel senso che ieri sera abbiamo parlato del gelato con la panna aggiunta, intervento della finanza, multa, quindi la panna sul gelato omaggiato o meno, ma negli Stati Uniti ci superano abbondantemente visto che la Corte Suprema degli Stati Uniti, che è un po' l'organo sovranazionale quindi che sovrintende a tutti gli Stati, è l'ultima voce in capitolo dal punto di vista del diritto sulle questioni giuridiche che possono accadere nei vari Stati e l'importanza della Corte Suprema è assoluta. Ebbene la Corte Suprema negli Stati Uniti ha risolto finalmente, male secondo me, la diatriba fra un pasticcere e una coppia gay che aveva chiesto a questo pasticcere di confezionare una torta per il loro matrimonio. Fatto abbastanza normale, naturale, senza problemi particolari, ma in realtà al tempo il pasticcere, persona cristiana del Colorado, appellandosi al primo emendamento, ovvero a una sorta di porre avanti le proprie convinzioni religiose nel compiere o nel non compiere qualche cosa nei confronti degli altri, in buona sostanza ha detto dal mio punto di vista del credo religioso, la banalizzo, io non posso farvi la torta, andate da qualche altra parte, ve la fate fare da un altro pasticcere perché io non ve la faccio. Da qui la polemica della coppia, il caso nei tribunali, nelle corti di competenza, sino ad arrivare alla Corte Suprema che dà ragione al pasticcere. Nel senso che prima dell'intervento della Corte Suprema la Commissione dei diritti umani del Colorado aveva deciso di condannare e di condannare, censurare comunque il comportamento del pasticcere dicendo che aveva violato una legge antidiscriminazione, quindi che vieta i commercianti di rifiutare i servizi in base alla razza, all'assesso e allo stato maritale. Da qui la Corte Suprema sette voti favorevoli contro due, censura l'operato della Commissione Statale antidiscriminazione anche se dice dobbiamo attendere un'ulteriore elaborazione, bisogna capire un po' i conciliari il ragionamento fra acquistare servizi con quella che è la neutralità che vi deve essere rispetto a religioni, cioè il servizio, l'acquisto prescinde comunque dalla religione e non ci deve essere un collegamento di questo tipo. Attivisti dei diritti gheschi erati da una parte, sostenitori dall'altra, questa pasticceria del Colorado che ha avuto questa notorietà in positivo o in negativo perché può avere anche perso degli incassi e avere perso anche delle possibilità di lavoro, parte già un fiorista adesso dopo la sentenza della Corte Suprema che anche lui si rifiuta di vendere fiori per un matrimonio gay e insomma se la stanno girando, guardando, cercando anche negli Stati Uniti senza avere però francamente chiarito bene la questione, anzi se proprio devo fare un ragionamento non riesco a capire il senso di buttarla dal punto di vista della diversità sessuale o dal punto di vista religioso, ecco mischiare religione e situazioni legate alle proprie convinzioni sessuali nell'acquistare una torta e schierarsi da una parte o dall'altra per questo, francamente non ne vedo il nesso. Mi sembra una questione piuttosto personale, cioè mi sembra che al di là delle religioni e al di là delle intese o delle attenzioni sessuali o delle preferenze sessuali, siano entrati in ballo proprio dei caratteri molto contrastanti con grande voglia di polemizzare e con grande voglia di litigare, anche perché vado a ragionare questa pasticceria è nel Colorado, gli sposi si dovevano sposare nel Massachusetts, altro Stato, la distanza era di circa 2000 miglia per andare ad acquistare la torta, ma che torta mai avrà potuto predisporre questo pasticcere, cioè non riesco a capire la questione il pasticcere cristiano e la coppia omosessuale. Mi sembra un voler far crescere delle tensioni assolutamente inutili schierandosi dietro balluardi inappropriati in una vicenda come questa. È una torta, la vuoi? Bene, non la vuoi, non te la do, te la voglio vendere, non te la voglio fare. Ricordiamo che poi è una torta matrimoniale, quindi non si tratta di andare in un negozio acquistare e dall'altra parte qualcuno si possa rifiutare, non è possibile. La torta per il matrimonio è un evento artistico, quindi occorre la componente artistica, occorre l'artista che la predisponga, l'artista è libero di dire la faccio o non la faccio, ecco non ci vedo questioni né religiose né sessuali particolari, perché se no qui non ne usciamo più. Allora cosa facciamo con il musulmano che si rifiuta di fare una torta con la stella di Davide a una coppia di ebrei? Che cosa facciamo con un afroamericano che si rifiuta di fare una torta con scritto white power? Entriamo in questioni a volte estremamente banali, ma che non devono arrivare, signori miei, santo cielo, questo volevo dire, davanti alla Corte Suprema che davvero in maniera imbarazzante ha cercato un po' di dare una risposta, ma senza particolarmente essere convincente come abbiamo visto. Facciamo le torte, non facciamo le torte, decidiamo, non decidiamo e finiamola lì. Lo stesso vale per il fiorista, stessa cosa, perché se no poi non ne usciamo veramente più. Grazie.